eccoci qua tutto è davvero pronto per l'inizio della finale di super smash bros brawl sul palco abbiamo già i finalisti l'admin namir il nostro pier e poi due commentatori d'eccezione ragazzi presentatevi siete anche inquadrati in questo momento io sono scal kid steppa siamo i commentatori per voi di oggi urlate un po dai guardiamo anche noi si dai voi almeno voi che siete lì nell'angolino poi dai allora abbiamo una finale che sa di deja vu si è completamente presentiamo un po i ragazzi allora qui abbiamo gioco la nostra velpa verde anche detto cirno cirno bella l'altro invece al nostro lancio cosa potrebbe essere l'occasione per la rivista di cirno dall'ultimo videogames party come no un po troppo scarico non va bene qua vogliamo carico il cirno oggi oh my god wario contro rob una cosa mai vista aspettavamo uno snake qua invece è esatto un meta night magari invece c'è wario stupisce così wario scorre di non c'è alternativa e il match inizia l'arena è smash perfetto il facing campionamento spontaneo anzi attenzione ricordiamo che questa è una best of five al meglio di 5 attenzione 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 mettiamo che wario è uno dei personaggi che camperano molto match sembra abbattanza la pari per ora attiva attenzione, bravissimo, attenzione land, c'è un rischio, c'è un rischio, oggi land ha avuto scarico, grande distacco 40%, per chi non conosceva il gioco quando la percentuale non si abbassa e si si alza, più alta la percentuale, più il personaggio può essere sparando fuori dello schermo, dei borsi e tutti morì, l'obiettivo appunto è sparare fuori l'avversario tre volte, attenzione, Wario, Wario, oh, 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 oh my god, viene sotto pressione land, attenzione, una pain potrebbe determinare la kill in questo momento, ho Ho fatto una potente scorretta da parte di voi. Scudo, occhio allo scudo. Ho preso la situazione. Lancia per superare. Si tiene la distanza. Diamo una ripresa di Lancia. Laser, per Dio, trottola. Combassuto questo match, ragazzi. Al limite, al limite. Non è ancora uscito nessuno qua. Vario cerca subito la rimonta. Ci basta poco. Ha una realtà percentuale, Lancia. Ci basta poco per tutto. Serebbe un semplice attacco. Attenzione. Come on, come on. E c'è, e c'è. Attenzione. Lenta ripresa da parte di Silvio. Lenta, oddio. Oh my god. Amazing, amazing. Mario, Mario. Mario time. Ok. Veramente alla pari questo match. È l'occasione, è l'occasione. Attenzione. Aspettatevi di tutto. Come vedete la percentuale è quasi sempre agli stessi livelli. Senti. 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 Va bene. Eccolo. Oh. 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 Dai. Oh. Carichi. Un po' di tifo per questi due player. Dai. Sono tra i più forti in Italia. Dai. Oh. Che entusiasmo. Wow. Stanno mostrando dei veri virtuosismi ragazzi. Non li vedrete più queste cose. A meno che ci sarà un passaggio. Ovvio. Come l'ultima volta si scontreranno di nuovo. Occhio. Occhio. Wario in lenta ripresa. Campano un po'. Oh. Pronti. Wombo Combo fra poco. Wombo Combo fra poco. La chiamano e la vanno. Non c'è ma fa niente. Oh. Fuori Wario. Basta una presa. Basta una presa. Scorra. 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 Scorra di Wario. E c'è. La chiamano e c'è. E Lance ride. Lance ride. E' contento di essere stato lanciato fuori dalla scorra. Lo ammette. Lo ammette. Gli piacciono. Mi hai fatto prendere a forza. Esatto. Adora quel profumo. Vorrebbe valere per tutti voi. Occhio. Occhio. C'è questo. Oh. Cirna in lenta ripresa. Ce la può fare. Ce la può fare. Ce la può fare. Wario dai. Sei un grassone ma ce la puoi fare. Del profumo grosso ce la potete fare. Oh. Trottola. Trottola. Attenzione. Occhio. Oh. Oh. Siamo la presa. Dai. Uno. Perfetto. Oh. Potrebbe usare la trottola. Potrebbe usare. No. Ma è che c'è la moto in campo. Oddio. Oddio. Se Wario perde la moto. Potrebbe essere la FU. Dai. Attenzione. La moto. No. 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 Deve stare attento. La moto si deve rispawnare. Deve stare attento. Deve stare attento. Cazzo. Cazzo. Scottola. Annullamento. Oh. Che cazzo sto dicendo? Dai. Un po' di tipo. Dai. Dai. E' che c'è l'ultima vita ragazzi. 110 tutti e due. Parità totale. Ehi. 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 Dai. Dai. Che triste. Qua uno smash potrebbe significare l'uscita di uno dei due. Un po' di entusiasmo. Tornata la moto. Esplosa di nuovo. E' rischiosa ancora. Vuota. Vuota. Oh. Bella. Bella. Si aggiudica così Rob il primo match. Ricordiamo best of 3. Se Lance vince la prossima ha vinto completamente. Ehi. Ehi.